Che costume è? È Don Juan Crede di essere qualcun altro Si chiama Don Juan Dottore, Don Juan Voi volete sapere se capisco che questo è un ospedale per malati di mente? Sì, lo capisco benissimo Ci sono solo quattro domande che contano nella vita, Don Octavio Cosa è sacro? Di cosa è fatto lo spirito? Per cosa vale la pena vivere? E per cosa vale la pena morire? La risposta ad ognuna è la stessa Solo l'amore Volete che Don Juan de Marco, il più grande amante del mondo? Parli con voi Cosa sapete del grande amore? Avete mai amato una donna? Che il suono della vostra voce nelle sue orecchie Costringesse il suo corpo a tremare E ad esplodere con un tale intenso piacere Che solo le lacrime potessero arregarle piano sollievo Io so i Don Juan Dono alle donne il piacere Se lo desiderano E ad esplodere con una donna E ad esplodere con una donna E ad esplodere con una donna